Una volta chiediamo l'aiuto di tutti, dei cittadini che come sempre rispondono e soprattutto dei nostri colleghi. Oggi per una parte della giornata siamo stati grandi. E' bastato che i servi del padrone ci dicessero che probabilmente per un'altra settimana ci è garantito lo stipendio e più di qualcuno ha cambiato idea sul modo di fare. Noi useremo sempre la testa nelle nostre azioni e decideremo sempre in assemblea quello che dobbiamo fare. Al contrario, i nostri cari sindacati che come al solito ci hanno cagato a spruzzo, si sono chiusi nelle stanze con i loro pari e sono usciti quando ormai non c'era più un operaio dicendo che avevano ottenuto chissà quale risultato.